Si soffre tutta la vita, almeno l'ultimo momento, diamoglielo degno a queste persone. Ridiamo dignità ai morti per Covid, questo l'appello che arriva ad Arezzo da un operatore funebre. Ancora oggi le salme vengono trattate con positività al Covid, a volte nel lenzolo, imbevute di naturalmente prodotto alcolico e chiuse in quel maledetto sacco che poi viene messo all'interno della barra. Un argomento che purtroppo tocca la sensibilità di molte persone che in questi due anni di fronte alla perdita di una persona cara non hanno avuto la possibilità di dargli un ultimo saluto. Ogni volta che purtroppo si è verificato questo evento le famiglie non accettano questa regola. Addirittura una signora purtroppo si è sfogata con delle testate sul muro, questo credo che sia brutto da vedere e bisogna avere un pochino più di sensibilità davanti a queste cose. Francesco Duranti ha così deciso di scrivere al Ministro della Salute. Siamo tutti vaccinati, non credo che questo virus si possa prendere così facilmente, soprattutto quando andiamo a compiere una vestizione in un corpo morto. Credo, non sono un virologo, non sono un esperto, ma con mascherina, guanti, camice, protezione con schermo, questo virus non possa attaccare. Non contesto la chiusura immediata della bara, ma almeno l'ultimo saluto degno ad una famiglia, questo deve essere concesso.